Il 17 marzo ci sarà la messa di chiusura del Sinodo al Santuario, un momento importante per la Diocesi, la fine di un percorso ma l'inizio di uno nuovo. Certamente, è un percorso che è durato quasi tre anni, quindi molto impegnativo, che ha coinvolto un centinaio di persone, poi i membri dell'Assemblea erano circa 100, e che ha comportato tanto lavoro, delle commissioni, delle assemblee, che chiamate poi a votare le varie deliberazioni. Insomma, è stato un percorso molto impegnativo, che ha coinvolto, direi, una buona rappresentanza della Diocesi. Il Libro Sinodale è la conclusione del percorso, ma come dicevi tu, l'inizio anche di un percorso nuovo, perché ora si tratterà di rendere concrete, attualizzare, applicare le norme, anche le indicazioni pastorali, perché le norme non sono tante, sono forse più indicazioni pastorali, un orientamento, ecco, che poi comporterà delle scelte precise a livello di zone pastorali, di scelte anche che riguardano la curia e via dicendo, insomma. La particolarità di questa Messa è che si celebra nella vigilia della festa patronale. Sì, anche se poi la Messa sarà quella della Quinta di Quaresima, perché prevale a domenica in questi casi. Certamente il Vescovo ha voluto comunque associare la conclusione del Sinodo alla festa della Madonna della Misericordia, la più cara per i Savonesi, ma anche per la Diocesi, non solo per i Savonesi. Quindi, simbolicamente, è bello aver iniziato il percorso in Cattedrale, a Pentecoste del 2021, e aver concluso ora a Santuario le due chiese più importanti della nostra Diocesi.